Questo è il motivo per il quale oggi non abbiamo pubblicato praticamente nulla su YouTube Quindi siamo allo Stadio Olimpico, seguiremo ovviamente la partita Roma-Juventus Aspettatevi la live reaction domani alle 14.35 sempre qua su YouTube Live dallo Stadio ragazzi Ma stasera il post partita ve lo godete proprio da qui Dallo Stadio, sempre da qui Quindi da quando è che mancava una live reaction ma anche un post partita dallo Stadio Olimpico? Allora se non sbaglio l'ultimo che abbiamo visto insieme era Lazio-Roma 0-0 Se non mi ricordo male Io poi sono andato a un altro derby però insomma ragazzi Io poi sono stato l'ultimo a vedere Roma-Folsberg ragazzi ero dall'altra parte E anche là ho pubblicato la live reaction Sì esatto e mancava da un po' quindi Quindi fate qui sotto nei commenti un pronostico come finirà secondo voi Roma-Juventus questa Fatelo Come finirà secondo voi Roma-Juventus Questa sera Ci vediamo più tardi ve lo ricordiamo Stasera post partita Qui su YouTube Appena finisce la partita Saranno gioie o smadonne? L'ha dovuto dire uguale Sei una cosa bestia Cioè guarda A dopo Stai citto Ciao